Innanzitutto grazie per questo invito perché effettivamente momenti come questi rappresentano credo l'eccellenza della medicina generale e anche sono momenti di grossissima riflessione e appunto anche per chi poi programma nuovi modelli o modelli innovativi ha necessità di poter contare appunto su professionisti illuminati e come rappresentate effettivamente voi insomma. Io mi scuso questa mattina non sono potuta essere presente ma mi farò sicuramente passare tutte le elaborazioni che avete appunto presentato perché ripeto sono strumenti utilissimi. Do alcuni spunti rispetto a quello che stiamo svolgendo assieme a voi ovviamente. Allora questa regione ha puntato molto sulla innovazione, sulla riorganizzazione delle cure primarie definendo un modello appunto, il modello di medicina di gruppo integrata che ha un percorso strutturato nel senso che non nasce più diciamo così soltanto dalla volontà dei medici di mettersi assieme ma nasce come obiettivo regionale quindi con una forte valenza di diventare proprio una struttura quindi un elemento, un nodo della rete assistenziale appunto della regione. Allora in questo momento la fotografia che abbiamo è quella che vedete rappresentata sostanzialmente il percorso di autorizzazione di questi modelli vede già autorizzate 78 medicine di gruppo integrate quindi siamo coinvolgiamo circa 700 medici della regione con un bacino di popolazione appunto di quasi un milione di assistiti e queste peraltro sono medicine di gruppo integrate che nascono come dire sia da una riconversione di modelli già evoluti come potete vedere sia anche in una parte, in un quarto diciamo rappresentano proprio anche evoluzioni di medici che prima operavano o in forma singola appunto o in forma associata. Quindi è come dire una fotografia che ci fa ben sperare nel senso che questo progetto sta andando avanti e come dire abbiamo una buona adesione sia da parte appunto della volontà della medicina generale sia per parte regionale quindi anche aziendale. Questi sono ulteriori numeri le medicine di gruppo attivate ad oggi sono appunto vi dicevo 58 quindi entro l'anno saranno appunto se non altro quelle autorizzate quindi effettivamente abbiamo dei buoni numeri. Queste stiamo costruendo una sorta di strumento di valutazione di monitoraggio di questi modelli perché appunto la regione ne era sprovvista, lo stiamo costruendo appunto andando a rilevare anche le attività che vengono svolte ovviamente all'interno di questi modelli e adesso ci accingiamo anche a costruire degli strumenti per il monitoraggio appunto degli obiettivi previsti dal contratto di esercizio quindi anche il monitoraggio degli indicatori appunto previsti. Alcune informazioni secondo me rilevanti riguardano anche la collocazione, la partecipazione da una parte delle amministrazioni locali che in alcuni casi non solo mettono a disposizione delle sedi proprie ma anzi direi che favoriscono proprio l'aggregazione di questi professionisti e la nascita di questi modelli. E dall'altra parte ovviamente l'attivazione insomma in qualche modo molto la partecipazione molto spinta da parte di alcune aziende che appunto si fanno proprio promotrici del modello stesso. Guardando ai finanziamenti e ai costi perché è giusto insomma è un investimento grosso per la regione, un investimento in un momento voi capite anche di risorse molto limitate e quindi mi sembrava giusto portare anche questa rappresentazione di come vanno a comporsi i costi di questo modello che anche rispetto a questo abbiamo costruito e stiamo costruendo un monitoraggio costante. Allora vedete che sostanzialmente la parte ed è rilevante la parte appunto dei servizi di tipo infermieristico e amministrativo sono una risorsa importante cioè compongono quasi la metà appunto di quelli che sono gli investimenti su cui stiamo puntando. Ovviamente qui la percentuale rispetto al materiale, le dotazioni strumentali eccetera è sottostimata perché non fa parte della parte appunto finanziabile dalla regione. Voi lo sapete è una parte, una quota parte in più che le aziende inseriscono. Allora mi piaceva pensando alla presentazione di oggi mi piaceva rileggere con voi questi modelli di medicine di gruppo integrate attraverso le quattro dimensioni della qualità dell'assistenza perché credo sia fondamentale richiamare appunto come dovrebbe cambiare e come queste forme dovrebbero riuscire a cambiare appunto anche e inserirsi nella filiera dell'assistenza territoriale che è un obiettivo inserito appunto nella programmazione regionale. Allora sicuramente le quattro componenti riguardano il coinvolgimento delle persone, la responsabilizzazione, l'accessibilità, la continuità e il coordinamento delle cure. Allora questo modello garantisce senz'altro una migliore accessibilità perché garantisce un punto di riferimento, vuole diventare un punto di riferimento certo, vuole garantire, assicurare una presenza medica ed infermieristica, vuole adottare dei percorsi assistenziali, questo è molto importante, percorsi assistenziali che richiedono un'analisi di processi e la costruzione poi di processi integrati perché questi modelli devono trovare una collocazione strutturata all'interno della filiera dell'assistenza e poi facilitano appunto la comunicazione tra medico e paziente ma anche soprattutto tra i professionisti. L'altro aspetto rispetto al potenziamento del coinvolgimento delle persone è naturale che questi modelli vanno ad ampliare o dovrebbero ampliare il portafoglio delle attività appunto assistenziali previste e quindi garantirle e metterle in chiaro ovviamente per i pazienti. Garantiscono un tempo dedicato, garantiscono quelle che sono le attività appunto di educazione all'autocura e di cancelling e poi visto anche che appunto dovrebbero lasciare spazio ad un rapporto un po' più dedicato al paziente appunto anche un maggiore coinvolgimento dello stesso. Così come la garanzia della continuità e del coordinamento delle cure. Allora qui se appunto questo convegno si fonda sull'utilizzare e rilevare dati dobbiamo anche stare molto attenti che appunto in questo sistema già molto complesso, già molto carico anche di rilevazioni, di burocrazia o d'altro, dobbiamo andare verso una semplificazione. Una semplificazione che possiamo trovare appunto se definiamo, se lavoriamo appunto per percorsi. Allora raccogliere informazioni è fondamentale, ovviamente ci consente di arrivare a garantire la continuità informativa, è necessario appunto garantire un'interoperabilità tra i vari sistemi software usati dai medici ma anche dai medici di continuità assistenziale ma anche dagli infermieri e via dicendo. Abbiamo mutuato da un'esperienza vostra tra l'altro quella che è la definizione di un indice di buona tenuta della cartella della scheda informatizzata individuale. Stiamo lavorando appunto sull'applicazione dei PDTA, credo che stamattina il dottor Confortin vi abbia dato illustrazione del percorso che stiamo facendo appunto per esempio sul PDTA regionale del diabete e poi stiamo cercando di individuare degli strumenti e metterli anche a regime, degli strumenti che siano a supporto appunto di questa continuità. Questo sono dei dati, una rappresentazione di un dato su un campione costruito su base volontaria di 100 medici sulla prima misurazione di questo indice di valutazione appunto di accuratezza della scheda individuale informatizzata. E vedete è vero, non è un campione rappresentativo, stiamo probabilmente, stiamo testando dei medici molto, che tengono già in modo accurato la propria cartella, però lo consideriamo, anche il fatto di averlo inserito nel contratto di esercizio come indicatore, lo consideriamo utile proprio per migliorare il sistema, cioè deve essere una buona pratica che viene diffusa, altrimenti appunto le buone pratiche non, voi capite che non possono, non ci aiutano a migliorare il sistema. Allora, questa è una rappresentazione, questo indice appunto è costituito da più sotto indici che vanno a misurare sia alcuni, la registrazione di alcuni parametri, quali appunto peso, fumo, altezza eccetera, ma anche la coerenza, la rilevazione delle prevalenze, ma anche ovviamente l'adesione ai PDTA. È vero che è ancora una forma sperimentale, è molto semplice, ripeto, di definizione di indicatore, andremo a perfezionarlo, però l'importante è che ci sia la logica di metterlo a sistema, cioè che diventi effettivamente uno strumento rilevato in modo strutturato. Allora, poi il quarto fattore riguarda appunto lo sviluppo della responsabilizzazione, abbiamo necessità che queste medicine di gruppo integrate forniscano in qualche modo dei risultati, nel senso diano evidenza dei risultati che stanno appunto perseguendo e quindi diano evidenza sia verso il paziente, verso la comunità, ma anche verso i professionisti che lavorano appunto nel team. Quindi tutti sono chiamati a concorrere, ovviamente, e anche poi naturalmente all'uso appropriato delle risorse. Allora, queste sono per esempio alcune, così mi sembrava interessante richiamare come alcune medicine di gruppo integrate abbiano per esempio una forte caratterizzazione, attaccamento anche alla comunità locale, organizzando anche per esempio delle attività molto vicine per la comunità e quindi diventino parte effettivamente della comunità, così come alcune attività, questi sono ovviamente degli esempi, alcune attività appunto di costituzione, costruzione di percorsi che portano poi a, come dire, a collocare alcune attività all'interno della medicina di gruppo integrata piuttosto che lasciarle in centri appunto specifici. Così come appunto altre attività, qualora queste forme siano anche dotate di strumentazione, possono diventare effettivamente utili. Allora, avevamo, credo, una visione ancorata al passato che di un sistema imperniato su prestazioni, quindi con una necessità, diciamo, di relazionare i bisogni alle risorse e l'esito era appunto una prestazione. Adesso io credo che dobbiamo guardare al futuro ed è quello su cui stiamo lavorando, cercando di interpretare proprio il concetto di presa in carico come l'esplicitazione dell'integrazione, nel senso che dobbiamo lavorare analizzando i processi e quindi lavorando per processi integrati, cercando di connettere, come dire, tutte le strutture, le azioni e i professionisti tra di loro, e non è un lavoro semplice, ovviamente questo, costruendo degli strumenti di dialogo tra ospedale e territorio, in modo tale che appunto tutti si riconoscano all'interno di questa collocazione e poi ovviamente la responsabilizzazione di tutti dentro ai processi. Allora, volevo farvi vedere questa rappresentazione perché stiamo cercando di lavorare in questo modo in molte traiettorie, nel senso che da una nuova definizione anche di idea di distretto che sia facilitatore di processi di integrazione, anche alla re-ingegnerizzazione delle cure palliative dell'ADI, ma così come alla riorganizzazione anche della continuità assistenziale perché è comunque una componente fondamentale delle cure primarie o anche ovviamente quella della costruzione di relazioni con gli specialisti. fondamentale diventa lo strumento del PDTA, ovviamente, perché prima di tutto è uno strumento di tipo organizzativo, perché ci consente di capire come i singoli professionisti, le singole aree, le singole entità si relazionano tra di loro. E poi ovviamente abbiamo il consolidamento per i pazienti protetti della funzione della COT, della centrale operativa territoriale e, come vi dicevo prima, lo sviluppo di un'informatizzazione che deve in qualche modo essere strutturata, non deve essere lasciata come una funzione spot, ma deve essere qualcosa di strutturato e sistematico. Quindi stiamo lavorando anche in questo senso. Tenete conto, per esempio, un primo passo per agevolare anche il medico nel suo lavoro e quello di avere in forma strutturata, di ricevere in forma strutturata nella scheda sanitaria individuale, appunto, anche le refertazioni. Allora, fattori determinanti, se vogliamo dare che questi modelli abbiano un buon esito, sono quelli di lavorare, appunto, analizzare i processi con cui gli attori si relazionano tra di loro, avere ben chiaro una mappatura delle risorse disponibili, saper organizzare le relazioni e poi, appunto, individuare degli strumenti di dialogo importanti. Mi piaceva richiamare questo articolo di Hitchcock, che è importante perché parla dell'importanza della relational coordination, cioè dove tutti gli attori di un team, i partecipanti, i componenti di un team si relazionano tra di loro e, appunto, partecipano al processo integrato. Allora, è quindi fondamentale consolidare questo impianto. Non serve, secondo me, abbiamo anche alcune tesi recenti che dimostrano che, per esempio, inserire dei nuovi strumenti, come può essere la spirometria, la telerefertazione, il teleconsulto alto, nel sistema non cambia il modo di seguire i pazienti se non c'è effettivamente un cambiamento nell'approccio, nella modalità di lavorare, dei professionisti che compongono queste medicine di gruppo integrate. E quindi aggiungere uno strumento non è garanzia, anzi, alcune tesi appunto lo dimostrano, di un miglioramento in questo senso. Quindi queste medicine di gruppo integrate hanno necessità, richiedono un cambiamento nel modo di lavorare, ma da parte di tutti i professionisti del sistema stesso, un modo diverso anche di relazionare, appunto, questi nodi della rete. Allora, qui cercavo di sintetizzare un po' il pensiero dicendo che queste medicine di gruppo integrate appunto consentono sicuramente di ampliare un portafoglio di servizi, perché ovviamente hanno, come dire, una dotazione, sono organizzate e quindi è naturale che una conseguenza sia quella di dare, erogare più servizi. Però non sono sufficienti se non possono contare su modalità di connessione di integrazioni strutturate, quindi se non fanno parte sostanzialmente di un sistema dove appunto ci siano dei passaggi e delle relazioni che siano codificate e strutturate. Quindi è sicuramente, come dire, un modello molto importante nella riorganizzazione della filiera dell'assistenza territoriale, però stiamo attenti nel senso che potrebbe appunto riperpetuare risposte vecchie, ma in questo momento abbiamo altri bisogni e appunto anche le risorse sono diverse. Quindi dobbiamo veramente pensare alle cure primarie non solo dei medici, ma appunto come team multiprofessionali e che ampliano sicuramente il proprio portafoglio di servizi e di risposte, però sì, come dire, in forma coordinata e all'interno del modello appunto di sistema. Io credo che da quello che stiamo appunto, tutti i tavoli che abbiamo aperti in questo momento, cerchiamo di effettivamente andare ad analizzare l'organizzazione e le modalità di relazione appunto dei professionisti. È un lavoro, forse un approccio a cui siamo poco abituati, questo è vero, però io penso che appunto il metodo e l'organizzazione, un po' come dice questa slide finale, ci consente effettivamente di inserire, di raggiungere alcuni elementi importanti in questo momento particolare, peraltro. Grazie. 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 Grazie.